Beppe Rosso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per darci alcune anticipazioni sul suo prossimo spettacolo che sarà in scena dal 24 gennaio al 5 febbraio, il Teatro Gobetti a Turino. Il titolo dello spettacolo è Troppi ormai su questa vecchia chiatta di Matei Viesniec con la sua regia. Prima di entrare nello spirito di questa storia, Beppe Rosso, come è riuscito a trovare questo testo di Matei Viesniec? Ma in realtà è il secondo testo di Viesniec che io faccio. Tre anni fa feci, attenzione alle vecchie signore corrose dalla solitudine, sono tutti titoli brevi, come potrete vedere, e dopo quello spettacolo si è stabilita tra me e Viesniec un'amicizia che a lui era piaciuto molto e quindi ci siamo visti più volte. Lui mi ha scritto questo testo, ha finito di scriverlo a marzo dello scorso anno e appena ha finito di scriverlo, già mentre lo scriveva, mi inviava alle varie parti, me l'ha inviato e quindi io l'ho proposto al Teatro Stabile, è la cosa avvenuta. Questo testo, oltre ad essere per l'Italia, noi abbiamo l'esclusiva, la nostra compagnia, ma sta per essere allestito in Francia, in Inghilterra e in Portogallo, perché affronta l'urgenza di questo momento che sta invadendo l'Europa. Ricordiamo che Mattei Viesniec è un giornalista, un drammaturgo, un poeta e quindi racconta con il suo piglio il dramma della resistenza umana per riprendere anche un suo precedente lavoro e continua ad analizzare per l'appunto questa esistenza umana. Questo spettacolo, Beppe Rosso, che cosa racconta troppi ormai su questa vecchia chiatta? Sì, posso aggiungere alcune cose che Viesniec ha una grossa radice anche nel Teatro dell'Assurdo che nasce da Ionesco, Ionesco non per nulla era rumeno e quindi Viesniec ha questa anima di affrontare i grandissimi temi drammatici, ma sempre con una visione un po' paradossale, assurda per ridare il dramma, per vederlo sfaccettato sotto forme diverse. Questo testo si può evincere anche dal titolo, troppi ormai su questa vecchia chiatta parla degli immigrati e dell'Europa, questa chiatta sono gli immigranti che arrivano su questi barconi, ma anche l'Europa, la vecchia chiatta dell'Europa che non sa più come fare e si sente invasa e si sente in troppi. Quindi parla dei drammi umani, logicamente di quelli che arrivano, ma anche dei loro paradossi e delle loro contraddizioni e ugualmente parla dei paradossi e delle contraddizioni dell'Europa che sembra un po' essersi persa, bilaniata da un dramma morale. Quindi è una tragedia che si scontra, la tragedia di quelli che arrivano è la tragedia dell'Europa che non sa bene come fare. Questa è una visione un po' particolare che io non ho ancora vista in altri spettacoli che trattano l'argomento, che normalmente si parla delle storie di chi arriva, i poveracci di qua, è un po' diverso. Parte ad esempio con la storia di uno scafista, noi lo vediamo sempre come l'essere negativo, che è negativo, ma sono persone, molte volte, poi andando a Lampedusa e incontrando, sono persone che lo fanno a livello economico, scatori, trasformati in scafisti e non sono tutti cattivi. Tant'è che i migranti quando arrivano, gli parlo a chi era lo scafista, dicono, ah, mon captain, perché li ha portati in salvo. Quindi è pieno di contraddizioni questo mondo, molte volte i media ce lo fanno vedere a tinte in bianco e nero, in realtà è molto più complesso e quindi lo spettacolo cerca di tirar fuori questa complessità. La complessità di un mondo, la complessità di un nodo dove noi siamo all'interno di questa storia, di questa storia epocale. Il teatro ci può venire incontro a comprendere, o quantomeno se non a comprendere ad avvicinarci proprio a questo senso di smarrimento che hanno queste persone su questa chiatta ormai troppo vecchia. Il teatro civile, quindi, se vogliamo aggettivarlo in questo modo, Beppe Rosso ha ancora possibilità, dunque, di espressione. Io sinceramente non amo molto il termine teatro civile, ma il teatro è il teatro, anche perché questi drammi, questo che noi stiamo vivendo, sembra un dramma a cui non c'è rimedio e dove entra in gioco il fatto. E' lo stesso modo di concepire la drammaturgia che avevano poi gli antichi greci. I testi greci che ci sono arrivati sono testi in cui quasi non c'è rimedio ai drammi, c'è l'aiuto del fatto e c'è la presa di posizione dei personaggi e a seconda della presa di posizione il dramma va in un modo o nell'altro, ma è una tragedia umana che assomiglia molto ai drammi antichi. E quindi per questo ritengo sia interessante da un lato. Dall'altra è anche per far vedere che noi lo concepiamo come una condizione emergenziale questa invasione, ma in realtà è un dato strutturale del mondo globale, non c'è verso, non possiamo pensare che questa cosa si possa fermare, non si fermerà, anzi usando in qualche modo le parole e la visione di Domenico Quirico, grande giornalista, che ha la stessa visione di Visnia, che in qualche modo sembra che si siano letti a vicenda, loro parlano di una rivoluzione, quella che è in atto è una grande rivoluzione, che come tutte le rivoluzioni ha delle parti molto drammatiche, ma anche delle parti interessanti e belle. Non per niente Domenico Quirico diceva, attenzione mediatica e politica è molto di più al rumore dell'albero che cade e rischia di non farci sentire il rumore dirompente della foresta che cresce. Allora, lo spettacolo mette in scena tutto questo. Beppe Rosso, tra l'altro lei ha citato Domenico Quirico che sarà presente il 25 gennaio alle 17.30 al Teatro Bobetti, insieme con Armando Petrini del Dams e lo stesso drammaturgo Matteo Viesni, c'è il regista lei stesso, Beppe Rosso e attore, e insieme con Gerardo Guccini del Dams e il giornalista, come abbiamo già detto, Domenico Quirico. Però questo spettacolo va in scena in prima nazionale martedì 24 gennaio e c'è il grande debutto al Teatro Bobetti. Lei poco fa parlava di tragedia greca, ma ecco, quando io penso alle tragedie greche e poi relativamente a questo, per esempio a questo spettacolo, mi chiedo ma è vero, è una tragedia che somiglia a quelle tragedie greche, ma noi con il nostro sguardo, quando vediamo la tragedia greca, non abbiamo forse la capacità, parlo per me in questo caso, la capacità di trasporre quella tragedia al mondo di oggi ed è quello che ci manca, anche perché le tragedie greche insegnano delle cose che sono utilissime oggi. Però in realtà se uno prende le supplici, che questo gruppo di donne emigrate che arrivano dall'Egitto, è molto simile, non per niente Moniovadia ne fece, mi pare, lo scorso anno in Sicilia ne fece una versione simile. Certo, la drammaturgia contemporanea poi ha questa, per questo io continuo a fare drammaturgia contemporanea perché credo che il teatro, oltre all'allestimento di testi classici, una cosa molto importante, ma debba parlare dell'oggi e debba parlare alla gente di oggi, quando Shakespeare scriveva parlava di quell'epoca, parlava dell'oggi di quell'epoca per la gente di fine 600. Credo che abbia una funzione molto importante la drammaturgia contemporanea perché parla la gente e la gente si può in qualche modo trovare, identificare o opporsi dei dubbi perlomeno su ciò che sta vivendo. Quindi la drammaturgia contemporanea che in Italia è un po' l'accenerentola purtroppo, mentre in altri paesi d'Europa, parlo della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, invece è una punta di diamante molto importante, credo che faccia rivivere il teatro e la sua funzioni, in qualche modo. Beppe Rosso, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per questa anteprima nazionale del Teatro Gobetti, grazie ancora e buon lavoro con il teatro. Grazie a voi e spero di vedervi. Buona giornata. Qualcuno vi sta sentendo al Teatro Gobetti. Arrivederci.